Salve a tutti, in questa lezione parleremo di paradigmi ed in particolare di quelli che sono i principali paradigmi in sociologia. I paradigmi che cosa sono? Sono delle prospettive teoriche di carattere molto generale che sono condivise da una comunità scientifica che si basano sulle precedenti acquisizioni di quella stessa comunità scientifica e che indirizzano la ricerca. I paradigmi si trovano a un elevato, al massimo livello possiamo dire, di astrazione per capirci. Se i concetti, i concetti sociologici di base ad esempio, quelli che fanno riferimento alla prima parte del nostro corso, sono a livello più basso, una interconnessione di concetti, quindi un insieme di concetti formulano delle ipotesi, permettono la formulazione delle ipotesi, più ipotesi permettono la formazione di teorie, più teorie fanno un paradigma. Ovviamente devono essere delle teorie messe a sistema, ma di fatto hanno un carattere talmente ampio di generalità che possiamo dire che i paradigmi di fatto sono dei modi di vedere il mondo. Questo non è un corso di metodologia, quindi per un approfondimento ulteriore su queste tematiche vi rimando a corsi specifici come quelli di metodologia delle scienze sociali. Prima di vedere quali sono i paradigmi in sociologia, tuttavia proviamo a dare una definizione più precisa di paradigma. In questo senso ci rifacciamo a quanto ci dice Thomas Kuhn col suo testo famosissimo The Structure of Scientific Revolution del 1962. Vediamo nel dettaglio. Secondo Thomas Kuhn il paradigma è una prospettiva teorica condivisa e riconosciuta dalla comunità scientifica di una determinata disciplina fondata sulle acquisizioni precedenti della disciplina stessa che opera indirizzando la ricerca in termini di, da una parte, formulazione di ipotesi entro le quali collocare la spiegazione del fenomeno osservato e dall'altra indirizzando la ricerca in termini di scelta e approntamento delle tecniche di ricerca stesse. Vediamo adesso quali sono i principali paradigmi sociologici. Abbiamo due principali paradigmi. Il cosiddetto paradigma dell'azione o teorie dell'azione. In questo caso i sociologi, i teorici classici di riferimento sono due sociologi tedeschi Max Weber e Georg Simmel e dall'altra parte abbiamo un altro paradigma, il cosiddetto paradigma causale oppure si può anche parlare di teorie olistiche, sistemiche, strutturali. Sono tutti più o meno sinonimi che potrete trovare nei vari libri di testo per indicare gli stessi raggruppamenti di teorie. Il paradigma causale che fa riferimento a un sociologo francese, Camille Durkheim. Questo non è un corso di teoria sociologica, ovviamente un approfondimento diventa necessario e lo farete, se non l'avete già fatto, nei corsi di teoria sociologica. Qual è il paradigma da scegliere quando si fa ricerca sociologica? Come si sceglie se una teoria è migliore di un'altra? Esiste una teoria migliore di un'altra? Beh, la risposta è complicata e da un'altra parte molto semplice. Nel senso che le teorie sono degli strumenti. Noi sociologi dobbiamo scegliere la teoria che è più appropriata per la spiegazione e la comprensione del fenomeno che stiamo cercando di spiegare o di comprendere. Quindi non dobbiamo mai essere schiavi delle teorie. Purtroppo a volte capita che degli studiosi imparano talmente bene la teoria di un determinato teorico di riferimento, si appassionano talmente tanto a quella teoria che poi quando fanno ricerca non riescono a fare a meno di utilizzare quella teoria per interpretare la realtà. A volte forzando un po' la realtà pur di inquadrarla all'interno della spiegazione teorica del loro teorico di riferimento. Questo è un errore che dobbiamo cercare sempre di evitare. I sociologi devono scegliere la teoria più appropriata per la spiegazione o la comprensione dei fenomeni, di volta in volta a secondo del fenomeno che devono studiare. Ma che cosa dicono questi due paradigmi? Quindi vediamo brevemente quali sono le caratteristiche principali da una parte del paradigma dell'azione, quello che, come abbiamo detto, fa riferimento a teorici come Max Weber e Georg Simmel, dall'altra parte il paradigma causale che fa riferimento principalmente a Emil Durkheim come sociologi classici. Il paradigma dell'azione parte dal presupposto che, per studiare i fenomeni sociali, è fondamentale centrare l'attenzione dello studioso sull'azione dell'individuo, sull'azione dell'attore sociale e sulla sua, quindi, capacità di modificare l'ambiente, la società che lo circonda. L'approccio del paradigma causale è diametralmente opposto. Infatti, nel paradigma causale, e quindi a tutte le teorie strutturaliste, il paradigma causale afferma che l'attenzione, nel momento in cui bisogna studiare un fenomeno e cercare di spiegarlo, va apposta sulla struttura sociale e sulla capacità della struttura di modificare, di influenzare il comportamento individuale. Come potete ben vedere, quindi, si tratta di due modi di vedere il mondo, completamente diversi. Queste due caratteristiche diverse condizionare, da una parte, paradigma causale, l'azione individuale e, dall'altra, la capacità dell'individuo di modificare il mondo che lo circonda attraverso le sue azioni, paradigma dell'azione, sono rappresentate da Giddens in quello che lui definisce il dualismo della struttura. Il dualismo della struttura, secondo Giddens, è ben rappresentato in questa famosa frase di Karl Marx è l'uomo a fare la storia, ma in condizioni non scelte da lui. È l'uomo a fare la storia, paradigma dell'azione, ma in condizioni non scelte da lui, paradigma causale. In generale, Giddens ci dice che lo studioso, il sociologo, deve cercare di evitare i due estremi opposti. Da una parte, quello del volontarismo ingenuo, cioè l'idea che l'individuo possa modificare a suo piacimento, attraverso le sue azioni, la realtà che lo circonda e, dall'altra parte, l'eccesso opposto, quello del determinismo strutturale, cioè l'idea secondo la quale la struttura condiziona totalmente e in modo imprescindibile l'azione individuale. Facciamo un esempio concreto per cercare di comprendere meglio quanto stiamo dicendo. Scegliere una teoria o sceglierne un'altra non è indifferente. A seconda della teoria che scelgo del paradigma di riferimento, influenzerò i risultati della ricerca. Facciamo un esempio concreto. Prendiamo il caso dell'homelessness, la vita di strada, la vita dei clochard, delle persone senza dimora. Ebbene, nella letteratura di riferimento esistono degli approcci molto diversi per lo studio del fenomeno dei senza dimora. A secondo dell'approccio, le conseguenze politiche, delle politiche sociali, di intervento sui homeless cambiano. Parlando dell'homelessness e della letteratura scientifica sui homeless, soprattutto con riferimento a quella americana, negli anni Ottanta si sviluppano tutta una serie di studi sui homeless che cercavano di spiegare il fenomeno dell'homelessness accentrando le cause della vita di strada, dell'essere per strada, sull'individuo, sulle caratteristiche dell'individuo. Mettendole in evidenza come l'homelessness fosse legata a scelte individuali o comunque a delle caratteristiche degli homeless, caratteristiche spesso legate a disagio mentale, malattie di vario genere, alcol dipendenza, tossicodipendenza. Era quello che veniva definito il disease model, cioè un modello che spiegava il fenomeno, in quel caso dell'homelessness, sulla base di un disagio. Questo tipo di modello si sposava perfettamente con le politiche sociali di quegli anni, degli anni Ottanta, negli Stati Uniti. Siamo nel periodo della Reagan Revolution, Reagan, padre del neoliberismo, e l'America si trovava ad affrontare un fenomeno enorme di un incremento esponenziale dell'homelessness. Come spiegare il fatto che milioni di persone in quel periodo e sempre di più vivevano per strada nel paese in cui ognuno può essere quello che vuole, il paese dell'American dream. Furono finanziate, infatti, in quel periodo, moltissime ricerche che mettevano in evidenza la responsabilità individuale rispetto all'essere per strada. Nel paese in cui ognuno può essere quello che vuole, se così tante persone vivono per strada, la spiegazione era legata alle caratteristiche individuali. Sono persone che lo scelgono, sono persone che hanno dei problemi psicologici, sono delle persone che hanno dei problemi di alcol dipendenza, di tossicodipendenza, eccetera. In contrapposizione a questo modello che accentrava la spiegazione del fenomeno sulle caratteristiche degli individui, si sviluppa un altro modello interpretativo che fa riferimento a un altro paradigma sociologico di tipo strutturalista. I strutturalisti dicono, ma quando mai? La gente che vive per strada non è per strada per delle caratteristiche individuali o per una scelta personale, ma è per strada, vive per strada per delle ragioni strutturali, legate alla difficoltà di trovare casi in affitto a basso costo, legate ai flussi migratori, legate a problematiche del mercato del lavoro, eccetera, eccetera. Vedete bene come questi due approcci spieghino in modo diametralmente opposto uno stesso fenomeno e a seconda del tipo di approccio che si sceglie evidentemente si troveranno risultati di ricerche diversi ed di conseguenza a risultati diversi delle ricerche, a interpretazioni diverse della realtà, corrisponderanno anche delle politiche sociali diverse. Bene, termina qui la nostra lezione sui paradigmi. Nella prossima lezione continueremo il nostro percorso di approfondimento su quelli che sono i principali strumenti per la ricerca di uno studioso, di un sociologo. Abbiamo visto, per termini molto generali ovviamente, quelli che sono gli strumenti principali strumenti di tipo teorico. Nella prossima lezione vedremo quelli che sono i principali strumenti da un punto di vista metodologico. parleremo cioè dei metodi per la ricerca sociale. Grazie per l'attenzione e buono studio.